Io come sindaco di Roma voglio evitare in tutti i modi di avere un ulteriore aumento delle tasse che siamo oltre i limiti di sopportazione e voglio evitare di tagliare i servizi sociali. Io non posso pensare di lasciare in strada persone diversamente abili, chiudere menze, bloccare esili nido, non è pensabile in realtà di questo genere. Quindi da questo punto di vista c'è la massima mobilitazione di Roma al fianco degli altri comuni per avere un cambio sostanziale di questo decreto che non deve essere meno taglio, deve essere taglio mirato agli sprechi. Su questo non ci sottraiamo, ma non può essere taglio indifferenziato perché rischia di scaricarsi sui cittadini.